Arte, storia, cultura. La nostra è una città che sa interpretare diversi messaggi. A mille volti. Quello dei libri, quello del teatro, quello delle opere. Tutti questi sanno affascinare noi stessi e i nostri visitatori. Identità, luoghi, la possibilità di vivere quotidianamente spazi e servizi per i nostri ragazzi e le nostre famiglie. La capacità di dare opportunità di crescita, sviluppo e formazione. Abbiamo creato una rete di eventi in grado di dare spessore e rilievo. Appuntamenti da confermare e riproporre. Con la forza dei saperi, andiamo avanti.